Benvenuti al secondo appuntamento con il ciclo di incontri dedicati alle varie direzioni artistiche che sono seguite alla guida del Festival di Sant'Arcangelo, intitolato Costruire una storia. L'abbiamo chiamato così proprio per rimandare all'idea di un racconto che naturalmente è personale, mette al centro chi negli anni ha guidato, ha creato il Festival, però anche di un racconto che è pubblico, come vediamo, e condiviso in un momento di confronto sulla memoria che è individuale, che è anche collettiva, di noi che ci ritroviamo qui, che ci accompagnerà con delle cadenze, con dei vari appuntamenti fino alla cinquantesima edizione del Festival di Sant'Arcangelo nel 2020. Il protagonista, l'ospite di questa serata con noi è Silvio Castiglioni, attore, artista di teatro, che è stato direttore del Festival fra il 98 e il 2005, la direzione artistica più lunga, otto anni, del Festival di Sant'Arcangelo, ma che in realtà è stato protagonista di un coinvolgimento con il Festival molto, molto più ampio. che passa dalla codirezione all'epoca di Leo de Berardinis tra il 94 e il 97, attraverso ruoli di varia natura e in varia modalità, che risale addirittura fino all'epoca del teatro di gruppo negli anni 70. Per inaugurare questi incontri, di solito la prima domanda che faccio, che ho fatto ai direttori che ho incontrato anche privatamente, è come sono arrivati al Festival. Quindi come un direttore vedeva il Festival prima di assumere la direzione artistica per creare un po' un paesaggio su cui questa esperienza va a innestarsi, una visione, no? E' una domanda che nel caso di Silvio assume un valore ancora più grande, più importante, per via del suo lungo coinvolgimento con il Festival di Sant'Arcangelo. E quindi vorrei partire, se tu sei d'accordo naturalmente, dal tuo primo approdo a Sant'Arcangelo, che è all'epoca della prima direzione artistica del Festival, quella di Piero Patino nel 77, se non sbaglio, con il teatro di Ventura, un gruppo, una compagnia che si era formata in quegli anni, e con uno spettacolo molto, molto particolare. Volevo chiederti quindi per iniziare, anche rompere un po' il ghiaccio, come siete arrivati al Festival, che tipo di impressione ne avete avuto e che effetto ha fatto il vostro spettacolo, il vostro arrivo qui sul Festival, in senso stretto e in senso lato. Grazie, buonasera a tutti. Mi aiuterete a fare un racconto che ovviamente si costruisce su anche una grande rimozione che io ho fatto dopo aver passato tutto questo tempo qua, perché per poter continuare, parto dalla fine, a fare questo lavoro, io dico quasi a iniziare a fare questo lavoro, ho dovuto mettere il Festival alle spalle e in qualche modo anche a cercare di dimenticarlo, no, in qualche modo, no, perché ti puoi affezionare ad aspetti che sono legati invece a cose che devi abbandonare e lasciare. Bisogna lasciar correre il fiume e il lavoro della memoria è un lavoro, non deve essere mai passivo, deve essere attivo, deve essere consapevole. Quindi in qualche modo io ho dovuto abbandonare del tutto il Festival, dopo esserci stato così tanto tempo che potevo rischiare di considerarmi quasi consustanziale al Festival, no, potevo correre il rischio di ritenermi il Festival. Come capita a qualche collega che a forza di far l'attore pensa di essere lui e non il suo personaggio o la sua poesia, no, di essere lui la scena. E invece no, tu sei al servizio di qualcosa, sei al servizio sempre di qualcosa. Allora, qui presente c'è anche Leo, c'è anche Leo, scusate, Remo Vigorelli, che mi aiuterà casomai a ricostruire quel 77. Noi siamo arrivati qui perché era mancata una compagnia, era saltata una compagnia nel programma di Patino, nel frattempo esce un articolo di Cesare Garboli sul Corriere della Sera e questo articolo parlava del detto del gatto lupesco. uno spettacolo che noi avevamo poco prima presentato in un festival di teatro medievale a Viterbo. Inaspettatamente riceviamo questo regalo, io allora sì e no che sapevo chi era Cesare Garboli, capite? Scriveva per il Corriere della Sera e ci dedica un articolo su quattro colonne. Io credo che sia stata la lettura di questo articolo che convinse Patino che questa era la compagnia buona per sostituire quella che gli era venuta a mancare. Fatto sta che qui a Sant'Arcangelo delle compagnie, diciamo così, diverse rispetto al programma che di solito Patino era uso fare, c'era anche il piccolo teatro di Pontedera che fece una parata. A noi invece ci toccò Piazza Monache. L'ho già raccontata questa storia, qualcuno si stancherà di sentirla ripetere. Fatto sta che arriviamo e siamo ricevuti da Romeo Donati nel suo ufficio di sindaco e affidati, cerco di fare veloce perché se no arriviamo, facciamo mattina. E poi siamo stati affidati nelle mani di Cristina Garattoni che oltre a indicarci dove avremmo dovuto andare a mangiare ci ha portato subito dopo a Piazza Monache. Nel palco costruito a Piazza Monache, la piazza pendente, dove, sapete, si costruiva quel palco in quel posto scosceso e ci viene indicato il palco come il posto dove noi avremmo dovuto rappresentare il detto del gatto lupesco. Io, Remo, Ferruccio, Pasquale e Robi ci guardiamo e facciamo anche così, non diciamo nulla perché se cominciamo a porre problemi adesso qui non andiamo da nessuna parte perché noi sapevamo da subito che su quel palco noi non ci potevamo stare. Lo spettacolo che noi eravamo venuti a portare qui era uno spettacolo che si svolgeva in un'area, diciamo, aperta con il pubblico sui tre lati e non poteva prevedere che noi facessimo uno spettacolo su quel palcoscenico. fatto sta che noi mettiamo le sedie sul palcoscenico sul palco, no? E ci adattammo praticamente nello spiazzo davanti al palcoscenico. La cosa sorprendente di Sant'Arcangelo per cui noi eravamo convinti che ci avrebbero cacciato immediatamente, no? Invece non successe niente di tutto questo. Probabilmente Cristina l'abbiamo chiamata, gli abbiamo raccontato il nostro problema e insomma in qualche modo qui non hanno fatto una piega. Questo io lo attribuisco un pochettino, è un segno di un DNA, no? Sti romagnoli, si saranno detti, ma vediamo un po' che cosa combinano questi qua, no? Tutte le cose si sono svolte prima a modo, qui ci stanno gli spettatori, qui ci stanno gli attori e quindi ce l'hanno lasciato fare. Il fatto che ce l'avessero lasciato fare era il segno probabilmente di qualcosa che già serpeggiava sotto il festival. Poi la storia, se vuoi arriviamo subito all'anno successivo, no? La storia si concretizza con il fatto che Bacci viene indicato da Romeo Donati come il prossimo direttore e quell'inverno, l'inverno che va da 77 a 78, noi eravamo allora reclutati da Eugenio Barba. Eravamo, come dire, facevamo parte del cosiddetto Terzo Teatro, eravamo uno dei gruppi di riferimento del Terzo Teatro, anche se, e Remo mi aiuterà, mi correggerà se sbaglio, eravamo fra questi i più indisciplinati o i meno allineati o i meno liggi alle cose che si devono fare per dirsi reclutati dal movimento. Fatto sta che quell'inverno Eugenio Barba decise di dare una svolta alla sua pedagogia indiretta, inventandosi un laboratorio a Ostebro, la sede dell'Odin Teatret, per tutti i gruppi italiani che allora sostenevano il suo progetto. Quindi non solo il piccolo teatro di Pontedere, il teatro Potalace di Fara Sabina, il teatro Tascabile di Bergamo, ma anche il teatro di Ventura e altri che poi nel tempo sono spariti, erano sei o sette. Allora la regola era che il regista andava lì con un attore, infatti toccò a me e non a Remo a passare questi 15 giorni a Ostebro. Per la precisione devo dire che lavoravamo di notte, perché questi staccanovisti di Danesi avevano due o tre spettacoli che occupavano tutte le sale durante il giorno e noi lavoravamo dalle 11 di sera alle 4, alle 5, alle 6 del mattino. E negli intervalli fra... Mi ricordo che passavamo tutto il tempo nella hall del teatro di Ostebro a chiacchierare del più e del meno anche con Elsa Marie, che è un'attrice di riferimento dell'Odin di allora, che ci dava i consigli giusti per riuscire a lavorare bene con Barba e Bacci cominciò a parlarci di Sant'Arcangelo, che noi conoscevamo già, come di un progetto che si sarebbe dovuto realizzare nel 78. E quindi un po' di notte, un po' nel pomeriggio, mettiamo a punto quello che poi divenne il Festival del 78, quello che poi diede... che si intitolava La città dentro il teatro, no? La città dentro il teatro declina, se volete, in modo proliferante quello che era accaduto nel 77, cioè noi che non facciamo lo spettacolo sul palcoscenico, ma altrove, nello spazio degli spettatori, e Bacci che fa la cosiddetta parata in giro per la città. Quindi queste due modalità, no? divennero l'occasione per scardinare che non ci voleva neanche tanto, scardinare un sistema chiuso in un posto dove i teatri non ci sono, peraltro, giusto? Non ci sono e non c'erano. Vi ricordo che allora il lavatoio non c'era. Ci si doveva inventare i luoghi dove il teatro potesse accadere. E il modo più semplice era si prende un contenitore, allora tradizionalmente erano lo sferisterio, Piazza Valacchia e Piazza Monache, i tre luoghi deputati, no? Dove si piazza un palco, più o meno, e delle sedie davanti. Allora, con Bacci comincia una partita diversa, ok? E caratteristica di quest'anno, dopo tante cose le dirà lo stesso Roberto, se incontrerete lui, evidentemente lui era l'autore di questo progetto, noi eravamo i suoi aiutanti ed esecutori. Diciamo che la caratteristica peculiare di quest'anno fu anche il fatto meno visibile a Sant'Arcangelo, dove il festival durò 15 giorni, ma il fatto che noi ci avvicinavamo a Sant'Arcangelo dopo aver passato 15 giorni nei paesi. A noi toccò stare una settimana a Mondaino e una settimana a Verucchio. Ad altri gruppi toccarono altri paesi, perché c'era l'idea che il festival non fosse solo una faccenda che riguardasse Sant'Arcangelo, ma c'era l'idea che il festival riguardava il territorio. Quindi noi eravamo andati là con l'idea di colonizzare questo territorio, aprire un canale di comunicazione fra Mondaino, capite? Cioè Verucchio è qui vicino, Coriano, ecco. Un canale di comunicazione che mettesse direttamente in rapporto la città con il suo entroterra. Questo è stato l'inizio, diciamo, di tutto per noi. Noi, mi ricordo, siamo rimasti qui un mese, un mese e una settimana, perché dopo quel mese in realtà continuammo, chiedemmo di poter usufruire dei posti letto che allora erano collocati in un asilo a San Vito, dico bene, Remo, a Canonica, dei posti letto perché avevamo un altro esperimento da fare. Siamo andati in giro per la Romagna a fare spettacoli volanti, fare spettacoli, diciamo così, improvvisi, per vedere se il nostro scopo era capire se andando in giro senza nessun mandato e senza contratti e senza niente, noi riuscivamo col cappello a portare a casa abbastanza per sopravvivere. Avevamo tutta una serie di spettacoli, avevamo spettacoli per tutte le età e per tutte le occasioni, sei o sette spettacoli circa. Il Detto del Gatto Rupesco era, diciamo, il nostro spettacolo di punta, ma quello è stato l'anno in cui, per esempio, facevamo anche noi il nostro spettacolo di strada che, a differenza di quello di Bacci, si caratterizzava per essere abbastanza selvatico. Remo Vigorelli aveva una gamba ingessata e andava in giro con un mascherone, con un corno e una stampella, io facevo l'arlecchino, eccetera, eccetera. E questo spettacolo di strada si chiamò La tragedia dell'arte, che è stato un lavoro che per noi è stato molto, molto importante perché abbiamo imparato molto noi come attori da quell'esperienza. Ci sono alcune foto che ci ritraggono in luoghi deserti. Foto di Verucchio, no? L'abbiamo fatto per pochi gatti, per 4-5 persone. Ecco, rifugivamo un po' dall'esibizione plateale anche perché non avremmo saputo come gestirla, la grande platea. E quindi era un modo per stare, per quanto mi riguarda, per tornare a stare in campagna, perché di questo si trattava. Questo è stato l'inizio di tutto quanto. Se vogliamo fare un altro passettino, dopo questa esperienza, venne a galla il fatto che noi eravamo dei quattro gruppi che ho nominato prima, quelli che non avevano una sede di lavoro fissa. noi venivamo da Treviglio, provincia di Bergamo. Eravamo nati al CRT di Milano, poi emigrati a Treviglio. A Treviglio andavamo a mendicare un posto dove lavorare ovunque. Prima nella sede di un coro. Ogni volta che smettevamo di lavorare dovevamo rimettere a posto tutto. E poi nella sede, in uno spazio delle monache, vero Graziella, dove andavamo a lavorare per singolarissima concessione di una monaca che ci dava lo spazio per poter provare. Insomma, noi entravamo, uscivamo da questo convento, che era anche una scuola pubblica nella città di Treviglio, ma noi eravamo comunque sempre in prestito. Quindi apparve chiaro che se si doveva scegliere un gruppo che avesse potuto o dovuto stare qui in pianta stabile, perché sorse già allora l'idea che Sant'Arcangelo era una potenziale casa capace di accettare e di accogliere la residenza di un gruppo di artisti. E senza casa eravamo noi, Teatro di Ventura. E quindi il Teatro di Ventura si trasferì armi e bagagli, ci trapiantammo dalla Lombardia alla Romagna, andando ad abitare, cercando casa e naturalmente non potendo lavorare a Sant'Arcangelo, che continuava a non avere uno spazio dove poterci ospitare, è andando a lavorare a Pietracuta. A Pietracuta, nell'attuale... Adesso questa sala l'hanno rimessa a posto, non so se l'avete vista recentemente. Pensate, pensate, così come è singolare, è vero che questo è un retaggio dell'epoca in cui c'era un partito che poteva disporre alcune cose, diciamo, alcuni attraversamenti amministrativi. Comunque, il pavimento di legno della sala di Pietracuta l'hanno fatto agli operai di Sant'Arcangelo, del comune di Sant'Arcangelo. Ma, se volete, lo stesso motivo per cui nel consorzio del festival, allora si chiamava così, c'è anche il comune di Rimini, eccetera, eccetera. Cioè c'era l'idea che questo, fin dall'inizio, questo è un bene che travalica il confine amministrativo del paese. Quindi, sia come azione teatrale, sia come sostegno amministrativo, che come progetto in tutti i sensi, ripeto, a Pietracuta siamo stati almeno un anno a lavorare. Ci hanno anche dato un appartamento come appoggio, che è un sfitto, e quindi riuscivamo, viaggiavamo dalla mattina e tornavamo la sera lavorando lassù. Quindi il gruppo si trasferisce Armi e Bagagli a Sant'Arcangelo e qui diamo vita all'Istituto di Cultura Teatrale. Cioè l'idea che l'attività del festival non deve chiudersi con la stagione propriamente legata al festival, ma che un'attività in qualche modo dovesse continuare. Rispetto a questo volevo chiederti se puoi, se vuoi, un approfondimento su come lavoravate, come era organizzato prima di arrivare alla tua direzione artistica, io giuro ci arriveremo, però per noi è anche un'occasione questo incontro per approfondire altre fasi e altri momenti che sono sostanziali per la storia del festival. Come lavoravate, come era organizzato il lavoro dell'Istituto di Cultura Teatrale all'epoca del Teatro di Gruppo o Terzo Teatro che a dirsi voglia proprio a livello pratico? Cioè lavorando tutto l'anno il festival è organizzato come una programmazione una rassegna di spettacoli e nel resto dell'anno cosa succedeva? Beh, noi eravamo innanzitutto eravamo un gruppo teatrale e un gruppo teatrale che apparteneva a quello che tu hai chiamato Teatro di Gruppo o Terzo Teatro. Oggi non so che cosa ne avete mai sentito parlare voi di questa cosa, cioè come si può descrivere oggi a generazioni che, come dire, si affacciano sulla possibilità sulla possibilità di costruire qualcosa questo modo questo approccio questo modo di arrivare a sarebbero tante le cose da dire io sono nato a Barabò Barabò è un incrocio di strade nella bassa veronese c'era un solo modo per uscire da Barabò leggere libri e io sono un lettore di libri forse la cosa che so fare meglio nella vita è leggere libri non che la faccio meglio di altri ma la cosa che ho fatto di più certamente sono stato più a leggere libri che a studiare teatro sicuramente perché dico questo perché la curiosità per uno che è nato a Barabò è la molla più importante ma com'è il mondo e com'è fuori di qua ok io mi sono iscritto poi a filosofia a Milano e ho frequentato l'università di filosofia ma quanto prima ho cercato una strada per creare un'area di lavoro che mi potesse mettere nelle mani qualcosa di concreto qui lo so mi rendo conto che sto usando gli aggettivi un po' a caso fatto sta che Barba è arrivato nel momento giusto abbiamo visto Minfarsus Minfarsus ci ha incendiato io l'ho visto 13 volte Minfarsus e ho fatto carte false per poterlo organizzare ovunque no Minfarsus è lo spettacolo diciamo così dell'Odin che per me è stato decisivo in qualche modo Minfarsus significa la casa del padre era uno spettacolo dedicato a Dostoievski nel quale in realtà di parole di Dostoievski ce ne saranno state 30 40 e nient'altro non c'erano altre parole questo era Minfarsus qualcosa di molto paragonabile a un temporale ora voi capite che lo spettacolo teatrale all'epoca gli spettacoli teatrali di quest'epoca non assomigliavano a un temporale assomigliavano a degli spettacoli teatrali no convenzionali diciamo così questo temporale mi ha e ci ha scardinato e quindi abbiamo deciso di metterci a lavorare come si fa come si fa non avevamo scuole di teatro io sono stato lì lì per entrare alla civica poi ho avuto paura di fare il provino o meglio ho detto che le cose che facevano non mi piacevano qui la strada la favola è quella della volpe dell'uva e quindi il teatro che vogliamo fare ce lo facciamo noi incoraggiati da barba abbiamo cominciato a fare un lavoro quotidiano qui devo dire un'altra cosa che è poco contemporanea ma che appartiene alla mia vita noi non sapevamo come si fa io non so come si fa non abbiamo Leo avrebbe detto tanti anni dopo l'attore non ha giustificazioni mai se tu vuoi fare qualcosa devi farla se tu hai bisogno di fare qualcosa devi farla ti vai a prendere quello che ti serve e la fai su questo tema che noi non sapevamo come fare si collega a un altro tema legato a De Berardinis al teatro al cosiddetto teatro che rispetta il diritto dello spettatore a essere ignorante che non che lo non che lo blandisce perché è ignorante ma che rispetta il diritto che lo spettatore ha di essere ignorante è venuto è venuto qui stasera quindi adesso tocca a te lavorare con lui come diceva Leo trattare il suo organo poetico te lo affida e tu lo devi allenare questo organo poetico io collego le due cose perché non avendo fatto una scuola di teatro non me ne vanto io insegno nelle scuole di teatro adesso ma non me ne vanto perché fare una scuola di teatro significa condividere con dei coetanei delle fatiche dei percorsi superare insieme delle difficoltà fallire e rialzarsi cadere e rialzarsi quindi so benissimo che è una ricchezza straordinaria ma evidentemente una delle malattie che non ho potuto prendere è l'accademia io l'accademia non so com'è com'è dov'è cos'è quindi noi come teatro di gruppo in qualche modo abbiamo fatto come ci pareva giusto fare eravamo disposti a tutto per realizzare un po' enfaticamente si potrebbe dire il nostro sogno che è la nostra voglia di fare di lavorare come passavamo il tempo beh mettendo su la musica degli Osibisa o dei Rolling Stone e dandoci dentro per ore per ore no o facendo sì che Castiglioni che adesso ha mal di schiena facesse l'istruttore di acrobatica ma io non lo sapevo l'acrobatica ma dovevo farla perché ero quello più agile forse no ma questa cosa non sapere come si fanno le cose e provare a farle è stata la cifra se volete è una delle cose più preziose che io posso in qualche modo non vantarmi perché non è un vanto non aver frequentato le scuole non c'era altra strada ecco il terzo teatro era avere il coraggio di provarci anche se non sai come si fa avere il coraggio di tentare anche se non sai come fare vuol dire che tu metti in atto tutta una serie di dispositivi per capire per correggerti per prendere le misure della cosa e quindi se l'Odin fa uno spettacolo che era il libro delle danze noi facciamo una cosa simile a quella dell'Odin certo che abbiamo copiato l'Odin a loro fanno così hanno fatto Min Farsus sarà giusto fare così facciamolo anche noi ma per arrivare a fare quella roba lì bisogna lavorare quindi quando siamo arrivati qui non c'era mica il problema di come si organizza la giornata di lavoro si sta a sei otto dieci ore in sala a lavorare questa era la prima cosa la prima cosa noi siamo arrivati qui come gruppo teatrale che continuava a fare la sua pratica quotidiana di lavoro una buona quantità di ore dedicate al training e una buona quantità di ore dedicate poi alla costruzione degli spettacoli l'attività legata invece allo stare qui quindi legata all'istituto di cultura teatrale beh è la cosa diciamo visibile che adesso io posso citare solo ci siamo cavati delle voglie cioè ci siamo abbiamo capito che quello era un modo uno strumento un'occasione per avvicinare persone o maestri il tema dei maestri poi verrà a galla allora quelli sono gli anni in cui anche Grotowski qualcuno di voi se lo ricorda che non poteva più rientrare in Polonia prima di essere adottato da Pontedera passa due anni qui in campagna ed è stato sono stati gli anni in cui io ho avuto l'opportunità abbiamo avuto l'opportunità di conoscere Grotowski non così da vicino come avrei avuto invece dopo quando ho lavorato a Pontedera là ho avuto un rapporto molto più ravvicinato diciamo Grotowski è autore di una frase che mi ha sempre colpito allora erano gli anni in cui era appena sorto il Dams non so in che anni sorge il Dams ecco diciamo il Dams era sulla cresta dell'onda e una delle parole diciamo che correvano in quegli anni era la parola comunicazione intorno alla parola comunicazione si creava un'enorme quantità di pensieri di progetti io mi ricordo una battuta di Grotowski una sera lui parlava rigorosamente in francese io ve la dico in italiano perché non saprei neanche ma comunicazione comunicazione ma perché avete tutti in bocca questa parola comunicazione due cose contano fare la cosa che è veramente importante per te fare e questo comunica e qual è la cosa più importante per te fare qual è l'eredità dei tuoi antenati gli antenati che c'entrano gli antenati tu sei qui sei vivo qual è qual è il testimone che tu devi passare a qualcun altro e questa cosa degli antenati se volete delle radici ma delle radici a livello antropologico profondo è una cosa che mi ha sempre molto colpito ed è stata sempre un chi sono i suoi antenati mi domando sempre quando vedo qualcuno anche in scena da dove viene quello lì io sono figlio di contadini e non solo non lo posso nascondere ma non è questo il fatto non è che sono contadini ma è la radice profonda che cosa hai ricevuto c'è un libro di recalcati che parla di adesso è una star mi dicono recalcati ormai ma che parla dell'eredità nessuna eredità ti viene regalata te la devi conquistare l'eredità quindi devi sapere che cosa ricevi e da chi e da chi la vai a prendere qui entra il tema della cosiddetta maestria allora l'istituto di cultura teatrale non potendo arrivare a Grotowski arrivò Richard Sislak che era l'attore di riferimento e poi un altro dei maestri di riferimento dell'epoca era Peter Brook quindi venne Georges Banu è un'altra è un'altra iniziativa significativa forse la più emblematica di quel periodo è stato un progetto a livello regionale che si chiamava Maestri e Margherite dove mutuando il titolo del famoso romanzo di Bulgakov viene a galla il fatto che ci sono i maestri e le margherite che sono gli allievi o i giovani che dai maestri vogliono prendere e la maestra che abbiamo invitato noi era Katsuko Azuma nel frattempo per darvi un'idea Barba stava razionalizzando il suo progetto didattico aveva creato l'ISTA l'International School of Teatro of Anthropology e queste sedute dell'ISTA erano annuali o biennali si svolgevano e lì c'è stato diciamo così l'incontro con la pedagogia strutturata modello barbiano cosa che secondo me ma questa è una mia analisi non ci ha fatto bene perché ci ha un pochettino disabituati a lavorare in compagnia della nostra ignoranza giusto? Tu sei abituato a imparare a camminare da solo poi arriva uno che ti dice no devi muovere il quadricipite attenta perché si muove il quadricipite prima dell'altro no aspetta scusa l'innesto fra un sapere che si voleva diciamo così più consapevole e il sapere che noi avevamo ricavato dal nostro non saper fare le cose ma se tu non sai fare le cose è un po' come il mio Arlecchino vero Remo? Io mica ho studiato da Arlecchino mi chiamavano Arlecchino perché parlavo in dialetto e facevo delle cose strane e avevo una maschera che rassomigliava a quella di Sartori ma se mi chiamano Arlecchino siccome mia mamma mi diceva se ti domandano qualcosa nel mondo non scontentarli io non li scontentavo sono Arlecchino va bene faccio Arlecchino quindi in qualche modo date certe condizioni si creano certi risultati o certi presupposti ecco il lavorare senza sapere senza un progetto chiaro in testa o razionalmente consapevole ci ha dato molto almeno a me ha dato molto poi naturalmente il gruppo a un certo punto ha finito la sua corsa forse è stato un bene con gli occhi del poi posso dire così perché tutti gli altri gruppi che hanno continuato invece la loro corsa si sono identificati con la forma che quell'azione aveva preso in quel momento voglio dire che quasi tutti i gruppi i nostri contemporanei hanno replicato se stessi un po' come i Comedians nel vent'anni dopo Rita l'ottantaquattro l'anno in cui i Comedians hanno incendiato il paese l'ultimo festival di Sant'Arcangelo come lo chiamò Bacci i Comedians arrivano a San Leo a San Leo i Comedians e io dico adesso porto due ventenni a vedere i Comedians così ti posso far vedere e siamo rimasti di sasso perché loro non capivano come noi ci fossimo innamorati di quella roba lì ma loro replicavano se stessi ma avevano vent'anni in più non hai più vent'anni Giaumet ne hai quaranta sei babbo o forse nonno e quindi se tu continui a fare la cosa che facevi a vent'anni sei quasi ridicolo ecco il rischio che hanno corso sugli altri gruppi che probabilmente erano più perché noi eravamo disgraziati forti avevamo anche un contributo ministeriale non so se Rebo si ricorda quell'anno che invece di 60 borderoni li abbiamo portati 59 mi ricordo ci hanno chiamato a Roma ma si può 59 ma ma non potevate risolvere non potevano dirci arrivate con 60 no? ci sono tanti modi per arrivare con un borderone più 59 quindi eravamo anche un po' sciagurati anti istituzionali anche per un po' di insipienza non che ce ne vantassimo però insomma dai si poteva far meglio il fatto sta che il gruppo poi si è in qualche modo sciolto ognuno è andato per la sua strada io poi ho continuato a fare il lavoro ma il periodo dell'istituto di cultura teatrale era un'occasione per noi adesso io è molto soggettiva questa testimonianza per me che sono il curioso quello che continua ad essere curioso nato a Barabò e che vuole sapere come funziona il mondo io conoscere George Banu non era ma male capito avvicinare Richard Sislak o avere la possibilità di lavorare con Katsu Kuazuma che per me è stato uno degli incontri dal punto di vista professionale decisivi della mia vita io mi ricordo ancora questo stage che facciamo insieme sapete che la vita è l'arte degli incontri che poi dipende degli incontri quando li fai se li fai al momento giusto beh quello è stato un incontro fatto al momento giusto quindi l'istituto di cultura teatrale molto soggettivamente e molto anche era un'occasione per cavarsi delle voglie per esplorare e per realizzare soddisfare delle curiosità ecco prima di arrivare e prometto che ci arriveremo a breve al momento della tua direzione artistica c'è un altro passaggio che vorrei che affrontassimo insieme che è quello del rapporto con Leo de Berardinis di cui si è stato anzi perché Silvio decide di restare in Romagna cioè anche oltre l'esperienza del teatro di ventura dell'istituto di cultura teatrale si ferma qui e a un certo punto continuando da quello che mi ha detto anche a collaborare con il festival a un certo punto Leo de Berardinis ti chiama come condirettore come è nato il vostro rapporto e come si strutturava poi la collaborazione vorrei anche chiederti se c'è qualche linea di continuità o elemento di persistenza che da quella esperienza di condirezione poi si può riconoscere anche nel tuo approccio alla direzione artistica così ci avviciniamo beh l'incontro con Leo è stato allora per dirla in due parole il teatro di ventura chiude adesso l'ho fatta molto sommaria poi casomai Remo se ho dimenticato qualcosa di decisivo Remo ci aiuterai il teatro di ventura chiude e si apre un nuovo capitolo io continuo a fare il lavoro ma ricomincio da capo faccio teatri per bambini faccio teatro nelle scuole mi dimentico il teatro teatro cerco di sopravvivere con quello che so fare che nel frattempo ho imparato a fare era nato un arlecchino dall'arlecchino ho cercato di estrarre tutto il possibile per vedere visto che Meldolesi gli piaceva tanto il mio arlecchino mi chiamava sempre arlecchino Claudio e io praticamente pur continuando a vivere a Sant'Arcangelo con Graziella abbiamo messo in piedi un'attività che si chiamava teatro di ventura 2 possiamo chiamarlo e abbiamo cominciato a fare spettacoli nelle scuole spettacoli diciamo di teatro ragazzi di vario genere poi il festival continuava la sua strada nell'88 viene qui un certo Raul Ruiz che con un progetto che si chiamava lo schiavo del demonio ovvero l'origine sportiva dello Stato reclutavano attori mi chiama Bacci e mi dice Silvio Castiglioni sei ancora qui sì perché ovviamente sempre in Romagna abitavo e quindi io mi ricordo che quel giorno ho detto no ma io non ho da fare e invece no no ci siamo incontrati con Raul mi ricordo ancora abbiamo pranzato insieme perché quelli erano i suoi provini e abbiamo continuato a farli siccome poi io con Ruiz ho fatto cinque spettacoli i provini li facevamo così al ristorante e si chiacchierava si parlava si stava insieme alle persone e dopo che eravamo stati insieme si decideva se queste erano persone con cui avremmo potuto lavorare con profitto reciproco perché questo era fondamentale per Leo profitto reciproco con Leo scusate con Ruiz gli altri reclutati nello spettacolo con Ruiz erano quasi tutti gli attori di Leo quindi Marco Cavicchioli Elena Bucci Marco Sgrosso c'era anche Andrea Renzi quindi ho conosciuto tutta la pattuglia e siccome c'era anche Francesca Mazza la donna di Leo Leo guardava tutte le prove dalla prima all'ultima e quindi siamo diventati amici in qualche modo ci siamo affratellati dai io ero molto curioso avevo visto un paio di spettacoli suoi per me era inarrivabile in qualche modo mi aveva molto colpito il suo Leopardi e nacque una conoscenza l'anno successivo Ruiz è incaricato da Franco Quadri allora direttore dell'Orestia di Gibellina di un progetto a Gibellina e il progetto era la scoperta dell'America mio fratello che sarebbe poi venuto a vederlo a Ruiz ha detto la scoperta dell'America è stata molto meno complicata del vostro spettacolo a Gibellina abbiamo lavorato Ruiz mi fa abbiamo i soldi 300 milioni solo che 160 dobbiamo spenderli per le comparse di Gibellina perché l'uso era questo bisognava coinvolgere le maestranze e così abbiamo preparato questo progetto che tra l'altro era un progetto gigantesco vi parlo di 6 ore di spettacolo una roba del genere nessuno di voi l'ha visto credo si faceva in due spazi i ruderi e il baglio di Stefano che è un'altra località che c'è invece vicino la Gibellina nuova ed era così 150 comparse diversi cavalli una caravella che saliva sul monte dei tamburini spagnoli venuti apposta dalla dalla Spagna di Calandra vestiti rigorosamente di viola cosa che ha fatto inorridire Leo naturalmente e Leo De Berardinis e Franco Scaldati mai dimenticato Franco Scaldati facevano due cammei dentro lo spettacolo due assoli no? Leo adesso non ve li racconto se no non finiamo più e in quell'occasione credo che Leo io gli sia venuto in mente quando viene nominato direttore del festival perché praticamente io ero l'aiuto regista di Raul cosa vuol dire che passavo molte ore con lui a tradurre i testi poi vi parlo dell'altra questione legata alle parole che sono molto importanti nella mia vita lo sono nella vita di tutti chiaramente ma una passione che era legata alla poesia insomma fatto sta che ero andato anche a Parigi perché per aiutarlo a tradurre lui l'italiano lo sapeva ma lo stava studiando per lui una lingua la conosci quando riesci a comporre un sonetto avevo fatto con lui nel frattempo un paio di film film che non ha visto nessuno naturalmente avevamo fatto uno spettacolo insieme a Ponte d'Era eccetera eccetera quindi era nata con Leo scusate con Ruiz una e l'incontro con Ruiz per me è stato decisivo in che senso come quello con Leo è come se Ruiz mi avesse aiutato a capire che tutto quello che io avevo fatto in quanto studente di filosofia e appassionato di poesia che nel terzo teatro era meglio non dire poteva essere utile poteva servire aver letto qualche libro può servire c'era invece l'idea che nel terzo teatro no serviva soprattutto la fedeltà serviva soprattutto come dire oggi si potrebbe una volta si diceva l'appartenenza no la militanza ecco la parola chiave una parola che non c'è più non c'è più dove è la militanza la militanza quindi la militanza è segno di grande fedeltà e se uno mostra delle crepe quello era il teatro estetico il teatro di Tiezzi il teatro di falso movimento di Martone il teatro di Gaia Scienza ok quello era il teatro come dire pericolosamente poco allineato diciamo così l'incontro con Ruiz è stato decisivo perché in qualche modo mi ha messo in contatto con questa parte importante di me che io continuavo a coltivare perché nei momenti difficili io avevo questa abitudine che non ho mai perso imparavo a memoria una poesia e ho sempre letto molta poesia ma non lo dicevo a nessuno finalmente l'ho potuto dire a Ruiz e poi l'ho potuto dire a Leo perché Leo parla espressamente di poesia in scena la poesia non è solo che si scrive in versi eccetera eccetera ma l'impianto poetico è una radice profonda e radicale in qualche modo sono gli anni in cui Remo Vigorelli mi legara a questo libro ve l'hai regalato tu Remo non ti ricordi la chiesa del tempo era l'88 è l'anno dello schiavo del demonio di Nino Pedretti e mi sono perso dove ero? Ruiz e Leo la posizione ah sì quindi perché Leo mi chiama? presumibilmente perché a Gibellina io ero il capo comparsa l'aiuto regista recitavo nel ruolo di Pissarro praticamente dormivo un'ora e mezza due per notte e tutto stava in piedi perché sembrava che lo tenessi in piedi io non è vero avevo imparato alcuni trucchi il primo trucco con le comparse e quando ti fanno 700 domande se è vero tu devi rispondere sempre sì sì e quindi io rispondendo sempre sì e prendendomi la responsabilità delle risposte sbagliate siamo riusciti a portare a termine quella gigantesca impresa e le ho probabilmente rimasto impressionato pesavo una decina di chili in meno ma vi assicuro è stata un'esperienza molto molto formativa i ruderi di Gibellina sono a 20 km dalla Gibellina Nuova bisogna arrivarci là è stata un'esperienza straordinaria anche perché le comparse a un certo punto minacciavano uno sciopero e noi avevamo pochissimo tempo per chiudere lo spettacolo e Ruiz ha fatto un gesto geniale a parte che lui aveva una politica sapete che lui era direttore dell'ufficio cinema nel nel chissà se è l'ultimo Nanni Moretti direttore dell'ufficio cinema nel nel governo all'Iende aveva 26 anni quando c'è il colpo di stato di Pinochet lui ripara con la moglie in Argentina e poi arriva a Parigi è mancato qualche anno fa e mi diceva mi dava dei consigli del tipo quando ti chiedono quanti soldi vuoi tu dire non meno del vostro direttore tecnico non sparare cifre tu prendi no il punto di vista del direttore tecnico quindi ti metti allo stesso piano non più in alto sullo stesso piano e siccome ai ruderi c'erano 180 190 persone che lavoravano e a volte succedevano incidenti era notte e poteva essere pericoloso lui da sempre aveva chiesto un'ambulanza lì un presidio medico efficiente e non ce la davano e allora lui a quattro giorni dal debutto ha deciso di fare sciopero oggi non si prova ha anticipato lo sciopero delle maestranze da quel momento lo hanno adorato e abbiamo lavorato 18 ore al giorno per finire lo spettacolo e questo era Raul in quell'occasione probabilmente Leo ha capito che forse gli potevo servire come condirettore a Santa Cancia cioè come diciamo capacità organizzativa nel rapporto con le persone forse sì penso di sì poi di fatto quando abbiamo cominciato a lavorare insieme qui la parte più specificamente organizzativa della squadra di Leo l'ha assunta in pieno Paolo Paolo Ambrosino che anche lui non è più con noi e ecco così è nata forse la inaspettata telefonata di Leo diciamo quando è stato nominato nel 94 un'ultima domanda su questo c'è qualcosa della tua esperienza come condirettore al suo fianco che diciamo lega quelle quattro edizioni alla tua impostazione della direzione artistica dal 98 in poi qualche elemento di continuità aspetto diciamo che hai sviluppato per capire anche su cosa avete lavorato insieme ovviamente non riusciamo ad affrontare tutto però magari qualche punto qualche sì ci sono tante cose chiaramente perché l'incontro con Leo è stato dunque prima con Roberto Naccari come si lavorava con Leo insomma si andava a Bologna si cazzeggiava fino alle 9 di sera e poi si cominciava a dire qualcosa e tornavamo a casa all'alba a volte in compagnia quando andava bene a volte da solo e mi è andata bene perché io dormivo io non ero un animale notturno come Leo e sai Leo era il teatro cioè stiamo parlando di una persona che genera e fonda il teatro lui aveva un'idea dell'attore come albero che genera la scena non è la scena che contiene l'attore è l'attore che fonda e genera la scena ed era un'idea molto aristocratica del lavoro ma nello stesso tempo molto popolare nella sua idea che è il teatro che è capace di vincere l'ignoranza e del rispetto che tu devi avere per il diritto che lo spettatore ha di essere ignorante cioè di non sapere le cose di cosa si fa cioè onoralo questo rispetto perché la cosa più preziosa ce l'hai ed è che lui è venuto lì e ti consegna il suo organo poetico così parlava Leo e tu glielo devi allenare e non drogare e lì c'è la sua famosa distinzione che se volete distingueva teatro da spettacolo spettacolo è ciò che si dà per fatto finito consumato teatro invece è quello che presuppone la collaborazione creativa dello spettatore e tu devi arrivare con qualcosa che sia più teatro che spettacolo perché se arrivi con lo spettacolo cosa serve che tu lo faccia qui ora e c'era l'idea potenzialmente eversiva del fatto che l'evento teatrale è potenzialmente rivoluzionario in tutti i sensi è uno sprofondamento è un abisso è una misa una bim continua direbbero i francesi potrebbe succedere di tutto potrebbe succedere tutto quindi il primato dell'evento come generatore di qualcosa che non si può dare al di fuori di questo e questa cosa qui con Leo era molto forte io l'ho capita e conquistata no e grazie a lui e con lui o attraverso di lui in qualche modo mi pare che al telefono mi ricordo una sera durante uno spettacolo in piazza durante un intervallo c'era la televisione di San Marino che approfittando dell'intervallo era andata a girare delle scene sul pubblico sulla scena e poi a un certo punto lo spettacolo doveva riprendere mi pare che fosse Giovanna Marini che doveva cantare perché Leo inaugurò con il coro di Giovanna Marini ma non sono sicuro che fosse quella sera chiedono alla compagnia di aspettare cinque minuti perché devono finire delle riprese io l'ho sentita mi sono incazzato ho detto loro sono spettatori non sono non sono le comparse del vostro documentario sono gli spettatori quindi loro sono fondatori dell'evento non siamo a Maruizio Costanzo show dove gli spettatori sono a loro volta comparse di un altro evento che avviene nello schermo mi ricordo che ne abbiamo parlato a lungo con Leo di questa faccenda dell'assoluto primato dell'evento e questa è una cosa che è un rischio è un rischio il teatro ovviamente perché sia tale deve essere collegato alla poesia e al fatto che l'evento è potenzialmente rivoluzionario lui diceva un attore si prepara all'incontro con la scena e con gli spettatori e l'irruzione dell'inatteso non è una cosa più arbitrariamente da improvvisatore da strapazzo lui si preparava meticolosamente l'inatteso è tanto più prezioso quanto più sei preciso e meticoloso nel preparare la tua rete quindi non c'era una confusione non c'era l'approssimazione mi ricordo che ne parlai con Leo una volta è venuto in Italia Patrice Cherot più volte è venuto in Italia Patrice Cherot aveva fatto un'intervista sul Corriere della Sera mi ricordo ancora la discussione che ho fatto con Leo e l'intervistatrice gli fa le domande Cherot è stato un grande regista francese attori italiani era venuto con due attori francesi attori italiani attori italiani troppo intensi e la chiude lì troppo intensi la intervistatrice che mi pare fosse la Claudia Provedini va avanti si parla d'altro a un certo punto ma mi vuole spiegare cosa intende per troppo intensi e lui pigri non lavorano abbastanza se la vogliono giocare quando sono in scena e basta e quindi come posso lavorare così aveva fotografato non il vizio generale ma uno dei vizi del nostro mestiere te la giochi lì per lì e mi ricordo che Leo la sottoscriveva in pieno questa cosa qua proprio perché può succedere di tutto ti devi preparare e Grotowski cito un'altra un altro maestro visto che a un ragazzo che gli chiedeva anche questa l'ho ascoltata con le mie orecchie non si riferiva la domanda a uno spettacolo dei suoi ma lui era presente era un nostro spettacolo quello che avevo fatto con Bacci e il ragazzo era una scolastica dice ma voi domani lo fate uguale a oggi e Grotowski dice cioè noi rispondiamo sì perché dai è un concertato è una struttura e così via e Grotowski prende la parola e dice e poi loro hanno lavorato molto per guadagnarsi questo privilegio due punti hanno messo a punto un dispositivo così preciso che domani riusciranno a capire che cosa vuol dire essere più vecchi di un giorno riescono a misurare il passare del tempo il passare minimo del tempo anche di questo ne abbiamo parlato tu mi hai fatto una domanda mi sono preparato un po' stasera c'è un testo di Leo che io leggevo ogni tanto teatro e sperimentazione del 1995 che è fonte di grandi pensieri diciamo che al di là delle cose che dice relative al suo progetto di fondare una specie di teatro nazionale di ricerca che era una sua ossessione dell'epoca molte delle cose che sono qua dentro riguardano sono come dei la presenza del pubblico è essenziale per creare campi magnetici forti e non è soltanto la quantità dei partecipanti a determinare questi campi ma anche e soprattutto la loro qualità perché essere ignoranti non vuol dire non avere una adesione reale e presente l'essere lì e poi questa cosa che ho già citato si potrebbe dire che l'arte scenica in generale è l'unica forma d'arte in cui avviene o dovrebbe avvenire una mutazione seppur momentanea piccola o grande di tutti i partecipanti al processo la conclusione di questo articolo che vi consiglio di leggere di rileggere ogni tanto perché comunque è ricco la conclusione mi ha sempre lasciato mi ha sempre lasciato un'impressione molto forte considerando poi la vicenda la vicenda personale di Leo il tentativo è quello di portare a compimento tutte le proprie potenzialità per essere pronti al silenzio perché uno porta a compimento tutte le proprie potenzialità per guadagnare per diventare importante per conquistare no per essere pronto al silenzio in qualche modo io ho bisogno degli spettatori che mi permettono di fare qualcosa un'esperienza che io non posso fare senza di loro tutti questi pensieri adesso adesso dire come tutta questa questa cosa no è è è passata poi io non ho studiato da attore ma men che meno ho studiato da direttore di festival capisci cioè adesso qui si spalanca un un baratro un vuoto oddio c'era Leo qui come faccio a riempire questo questo vuoto e quindi bisognava circoscrivere innanzitutto ho cercato di non essere solo sono state anche accusato di essere stato poco solo ma ho cercato di non essere solo in questa esperienza ecco dopo magari salta fuori qualcos'altro rispetto a questo allora arriviamo al 98 al momento in cui dopo le edizioni nel fianco di Leo De Berardinis viene nominato direttore del festival di Sant'Arcangelo e prima di tutto una domanda un po' a pelle un po' personale cioè come hai reagito e cosa pensavi di fare quando ti hanno affidato questo incarico quando hai voluto accettare questo incarico anche alla luce di questa lunga esperienza precedente beh quando mi è arrivata la comunicazione insomma che c'era stato un contatto e poi è diventata diciamo formalmente io ero a Brescia e stavo lavorando allo stabile di Brescia un progetto con François Kahn su Hoffman il signor Hoffman il sogno è la vita e diciamo mi sono sentito onorato e leggermente angosciato ho fatto due cose concretamente la prima cosa è stato di chiamare Massimo Marino e sapere se lui sapete perché Massimo perché avevamo giocato insieme con le rime perché lui veniva con noi e ci faceva da drammaturgo volante scriveva le ottave in ottava rima e io avevo questa passione questa folle passione per la poesia per la poesia in rima per la canzoncina per tutto ciò sapete una delle mie battute siccome insegno in una scuola di teatro spesso mi viene da dire ai ragazzi guardate che se avessimo ancora la fortuna di recitare versi la maggior parte dei problemi legati all'interpretazione del lavoro dell'attore non ci sarebbe perché una volta si scriveva in versi e nel verso è consegnata una chiave nel verso no la più cupa delle tragedie di Shakespeare il Macbeth è per l'85% in versi nel blank tetrametri e trimetri giambici e questi battono questi battono quindi in qualche modo risolvono una parte dei problemi legati alla convenzionalità e al gioco teatrale che deve essere sempre percepibile e visibile senza che faccia perdere tanto tempo chiaro? che non debba che tu non debba sprecare troppe energie oppure che tu non pensi che non lo è un gioco teatrale è un gioco è una cosa seria allora Massimo Marino a me mi faceva sempre tanto ridere perché avevamo fatto insieme un'esperienza importante in Sicilia arrivava sempre con una quartina forse non gliel'ho mai detto a Massimo che il motivo è stato quello lui ha chiesto un giorno o due di tempo e poi mi ha detto sì ti va di fare il festival con me? io replicavo il modello di Leo Leo aveva me e io avevo bisogno di qualcuno e mi è stato molto utile perché Massimo già allora più di me dava uno sguardo in zone nelle quali io non guardavo proprio perché 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 non avevo apertura sufficiente insomma per arrivare lì aveva visto forse più cose di me la seconda cosa che ho fatto è stato di telefonare di chiedere il numero di Lello Ballini il primo spettacolo del 98 è stato Carta Canta nel senso che sapevo che era uscito questo spettacolo di Lello che io non ho mai visto tra l'altro perché la sera che l'abbiamo fatto qui c'è stata un'emergenza che mi ha chiamato altrove e non l'ho visto e mi ricordo che ho chiamato Lello gli davo del lei ovviamente non lo conoscevo e come dire facendogli complimenti che era appena uscita la raccolta in Audi dei suoi tre monologhi e lui mi diede la famosa risposta sì ma non ci si può più fidare neanche di grandi editori c'è una E al posto di una I a pagina 37 e me l'hanno andato corretto vabbè questi sono i primi due gesti diciamo così poi Massimo Marino che è un critico di teatro lo dico per gli studenti che magari non conoscono il nome è stato codirettore di Silvio Castiglioni per vari anni fino a un certo momento per sei no? per gli otto sì sei a parte gli ultimi due gli ultimi due sono Silvia e Andrea Nanni Silvia Bottiroli e Andrea Nanni che è anche l'inventore è stato l'inventore Massimo del giornale del festival cioè lo strillone per le cellule Massimo è lo strillone capito? quello che scrive la quartina o l'ottava e la va il giornale del festival che è stato una forse il laboratorio più dai anche appassionante insomma no? è stato che ha avuto anche dei momenti di gloria nel senso che abbiamo fatto quante forme l'abbiamo pubblicato prima stampato nostro insomma era un un modo per tenere di far circolare i pensieri e le parole in un certo modo e per dare uno spazio che magari non c'era già più sui giornali e così via Massimo è stato l'inventore del e poi ha allora uno dei problemi che avevamo con Leo è che Leo essendo caratterizzato in modo molto forte come artista teatrale diffidava del teatro diverso o lontano dal suo cosa che in quegli anni cominciava a essere stretta quindi in qualche modo no? faccio un esempio no? i motus che dirigeranno il festival dell'anno prossimo quell'anno non mi ricordo quale anno è stato forse sempre di Leo fecero lo spettacolo al museo di Rimini e Leo non ebbe il tempo di andarlo a vedere e mi ricordo che chiedemmo di poter stare lì un giorno o due in più per permettergli di andarlo a vedere l'anno del 94 fu anche l'anno in cui venne qui la prima volta babina con risuscitato Amleto parla rap e i sacchi di sabbia no? gruppi diversissimi fra loro che erano il nuovo teatro che sorgeva Fanny Alexander venne un anno o due dopo a Palazzo Cenci quindi timidamente cominciavamo ad aprire verso questo nuovo teatro che poi naturalmente con il fatto che noi io sono diventato con Massimo direttore siamo andati un po' più diretti su questa cosa arrivando poi a coprodurre cose importanti sia del clandestino che dei motus adesso ho citato questi due con Bruxelles con Rennes e così via diciamo che si è potuto praticare con più libertà e con più leggerezza quello che invece con Leo bisognava mediare con grandi dopo lui era anche un furbacchione nel senso che si annusava che c'era della qualità anche se non la capiva non era così intollerante insomma era un uomo di teatro quando abbiamo parlato abbiamo avuto alcuni incontri alcune conversazioni per preparare questo incontro con voi pubblico quando abbiamo parlato della tua direzione artistica perché è così lunga perché è così articolata è così ricca uno degli argomenti che abbiamo affrontato è stato quello del criterio su come venivano strutturati i festival al momento in cui tu ne avevi la guida e una delle cose che mi hai detto che è tornata più volte è quella della necessità di circoscrivere il campo mi sa che l'hai anche accennato a passant prima la necessità quindi di individuare soprattutto all'inizio nelle prime edizioni dei temi degli argomenti proprio che articolavano come sezioni i festival nelle loro diverse edizioni e quindi vorrei utilizzare anche nel caso di questo incontro pubblico questa modalità cioè di toccare per quanto possibile un po' di temi di questioni che sono ricorrenti che sembrano ricorrenti all'interno della tua direzione artistica che tornano e ovviamente cambiano si sviluppano evolvono una è quella senza dubbio del rapporto con i maestri e con la tradizione della cultura teatrale che anche questa è già stata accennata prima da Silvio a partire dal titolo la prima edizione diretta da Silvio Castiglione nel 98 si chiamava L'orizzonte e la memoria all'interno di quell'edizione c'era una sezione dedicata proprio ai maestri alla maestria poi più avanti troviamo riferimenti a grandi tradizioni del teatro della cultura occidentale come la commedia dell'arte l'epica non solo del teatro fra l'altro e della tradizione orientale maestri orientali che vengono qui la presenza costante di laboratori di cantieri questo in tutte le edizioni se non sbaglio a fianco alla consueta proposta di una programmazione di spettacoli ci sono anche momenti delicati alla trasmissione della conoscenza dell'esperienza del sapere teatrale quindi volevo chiederti le ragioni di questa presenza così consistente del rapporto con la tradizione e con i maestri fin dalla prima edizione dei tuoi festival e anche in realtà alcuni li hai già nominati quali sono stati i tuoi maestri strettamente all'approccio alla direzione artistica quindi gli interlocutori i riferimenti che hai avuto in quegli otto anni dunque è tanta roba nel senso che bisogna allora mi sono io non so perché sono sopravvissuto così a lungo no non ho studiato da direttore artistico probabilmente c'è stata anche un po' di entropia o di inerzia in tutto questo forse è per questo che dopo una volta finito questo lavoro dopo aver superato il rischio di identificarsi con di identificarmi con la direzione artistica ho dovuto fare un taglionetto dentro di me no perché chiaramente per esempio gli ultimi due anni sono stati anche molto divertenti perché si è rinnovata una collaborazione cioè si è creata una collaborazione nuova con due vice direttori poi devo nominare anche un'altra collaborazione costante che è durata tutti questi anni con Massimo Eusebio che si occupava della musica ma di questo volevo parlare dopo magari diciamo che la fortuna è stata quella di riuscire a tenere insieme bene o male con tutte le difficoltà del caso tu Roberto cosa hai fatto non il primo e tutti gli altri vero? ok Roberto ovviamente è coinvolto adesso e non l'ultimo è vero diciamo c'è un gruppo di persone che in qualche modo aveva una sua intelligenza se si può dire che un gruppo ha un'intelligenza ok quindi una delle accuse credo che mi sono state fatte anche esplicitamente è che io non dirigo più no me lo dicevano ogni tanto non prendi ma è vero ogni tanto io usavo la tecnica Kutuzov non so se vi è nota la strategia Kutuzov no vedo che allora guerra e pace Napoleone è bravo in battaglia vince il comandante delle truppe russe stavo a vedere sovietiche si chiamava Kutuzov Kutuzov aveva un solo problema convincere i suoi generali a non attaccar battaglia rinviare perché comunque se tu fai la battaglia quello vince aspetta 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 quindi la tecnica Kutuzov che è un po' quella che ho usato inversamente a Gibellina dire sempre di sì è così che sì sì no allora adesso mi prendo un po' in giro in realtà no perché alla fine bisogna sempre fare le nozze con i fichi secchi l'importante è che tu ti possa guardare allo specchio e non senti di non aver perso la tua dignità di fronte alle persone con le quali tu convivi mi spiego meglio agli attori dico una cosa che è un segreto di pulcinella per me no tu recita per qualcuno che stasera non c'è ma che è importante per te mettilo là quella persona mettila là io li ho i miei immancabili spettatori me li porto sempre appresso uno di questi è mia mamma che l'italiano non lo parla la metto lì quindi è un esempio classico di quello che Leo chiamerebbe ignoranza no rispetto a questo allora è utile portarsi appresso questi spettatori e i miei anche io avevo i miei naturalmente no fare cose che di fronte a loro non ti facciano perdere la faccia allora devo dire che la il fatto di non sapere come si fanno le cose in scena ha contato anche molto nel non sapere come si fanno le cose come direttore di festival a volte si paga caro io sono invidiosissimo del fatto che stasera Roberto ha finito di chiudere un progetto europeo sono bravi adesso perché quella è la strada è da anni in realtà che la praticano che noi abbiamo tentato in modo approssimativo non così consapevole un po' cialtrone forse almeno per quanto mi riguarda o ci ho creduto poco perché quella è la strada intercettare risorse visto che qui le risorse sono queste adesso viaggiano se viaggiano attraverso altri canali quindi non sto facendo un elogio dell'ignoranza o del non sapere come si fa per carità bisogna imparare come si fa sto dicendo che la spinta a fare che ti deriva da un bisogno da un desiderio va sempre onorata l'attore non ha giustificazioni Leo non ha giustificazioni mai oh no ho ricevuto i soldi dal ministero cazzate no no è prodotto niente vuoi fare l'attore nel caso di Leo no vuoi fare la tua azione portala avanti portala in fondo mi sono incagliato maestri e beh allora mi verrebbe è strana questa domanda ma mi rendo conto mi rendo conto perché il tema del come si fa lo sanno loro i maestri come si fa a non cercare i maestri come si fa a non cercare allora distingo qualche sera fa a Cattolica ho visto uno spettacolo di Obrazov Obrazov è morto da qualche decennio Obrazov è sicuramente una vetta della maestria del teatro di animazione russo io però l'ho visto a Mosca come era trent'anni fa quarant'anni fa e in qualche modo adesso non lo riconosco più cioè ne riconosco la maestria sono trecento persone che vivono in quel teatro è un'istituzione delle più importanti di Mosca credo trecento persone ma oggi non inviterei uno spettacolo di Obrazov capito oggi per esempio quello è fuori fuori ma forse Ideocanze che abbiamo invitato lo inviterei perché Obrazov non c'è più c'è il suo mondo c'è il suo mestiere c'è la sua grandezza se volete ma in qualche modo la trovo in qualche modo convenzionale però riuscire a mettere le mani su per esempio Gabriazze che era l'alter ego giorgiano di Obrazov con lui è stata un'impresa secondo me folle ma che forse valsa la pena di essere fatta mettere le mani su Ideocanze poco prima che se ne andasse ultimo esponente della famiglia Kanze poter vedere da vicino un attore di teatro no se vuoi ma come faccio io che ho letto che ho sognato che se ho cominciato a fare teatro è per colpa di Minfassus è per colpa di uno spettacolo di Burraku il teatro delle marionette giapponese a non usare il festival per portare qui Ideocanze usare il festival per portare qui è brutta la frase si però io sono convinto che se questo bisogno desiderio ce l'ho io possono averlo anche altri abbiamo ho tentato abbiamo tentato anche operazioni più complesse con l'Argentina c'era un'idea folle poi con Veronese non è andata in porto poi con quella Masnada quanti erano Roberto 120 che dovevano venire qui dovevano portare qui uno spettacolo uno spettacolo di Barrio o di Barrio non so come si dice è uno spettacolo popolare creato un esempio rarissimo di teatro colto popolare insieme fatto da attori professionisti e no che secondo me era un esempio inarrivabile che succede a Buenos Aires e che avevamo tentato di portare qui quindi stiamo parlando di qualcosa che non è accaduto ma per me quella era una maestria cioè maestro è esempio non da copiare ma in qualche modo una forma di esemplarità io ho sempre avuto bisogno e continuo ad averlo il bisogno dei maestri forse perché non essendo stato infettato dall'accademismo per ragioni biografiche ho sempre considerato il rapporto col maestro un rapporto fertile capisci cosa voglio dire un rapporto utile penso che come me ne hanno bisogno anche tanti altri ecco per cui il rapporto e poi all'inizio di tutto c'è quella frase di Grotowski l'unica cosa che conta è gli spagnoli hanno una parola perfetta hidalgo che vuol dire chico de alguien lui è un hidalgo cioè è un figlio di qualcuno non è un figlio di nessuno quindi sapere di chi sei figlio forse il maestro ti può aiutare a rintracciare le tue radici lontane per sapere che cosa passi e qui c'è il problema grosso della verticalità e dell'orizzontalità che è uno dei compiti che forse questa è la materia dell'ultima domanda cioè che bisogna tenere aperta la freccia del tempo perché il tempo sparisce il qui e ora uccide il passato è il futuro e forse al teatro tocca tenere aperta la porta la freccia del tempo in questo senso maestro se pensate che è una cosa è fuori moda perché maestro è fuori moda è fuori contesto nell'era digitale un ragazzo sa molto di più di chiunque altro del mondo digitale è finita ma forse il maestro è l'unica persona è quello che sa istruire il guerriero e chi è il guerriero? il guerriero è la cosa che speriamo non sparisca che i ventenni e i trentenni di oggi si pensino come guerrieri e cioè dove la sconfitta è nell'ordine delle cose che possono accadere ma è imparare a rialzarsi che bisogna ci può stare la caduta sempre ci può stare la caduta ma bisogna imparare a rialzarsi e questo è il compito del teatro tenere aperta la freccia del tempo e anche dello spazio per quanto mi riguarda perché uno dei temi legati ai maestri era le geografie teatrali era l'epoca in cui io pensavo che una certa area producesse un certo frutto adesso è più difficile che un certo luogo così come si dice un cru sapete che nella denominazione non è il cru è il vino che viene in quella collina le qualità organolettiche di quel vino sono quelle e nient'altro io penso ancora così che se tu hai mangiato questo hai vissuto questo hai sentito questa lingua io arrivo qui in Romagna e poi qui c'è l'altro tema della poesia e questo paese è pieno di poeti di grandi poeti e io arrivo arrivo col mio poeta chiaramente perché io giro sempre con dei talismani in tasca ma questo che cos'è questo è Filò di Zanzotto perché il mio poeta era questo corrispondente ai vostri no vecio parlare che tu hai il tuo saorus cip del latte la eva vecio parlare che non so più che mi sia discuni di paddinte la bocca non tu mi basta parlare da poreto da poreti ma scetto ma fis ma tocco fa una branca dei feng pena sega dal fallin quando quando gliel'ho recitato a Leo questo pezzo in occasione dei cento attori che poi lui lo mise in scena questo pezzettino qui e altri insomma quindi come dire questa l'ho trovata una strana coincidenza perché una delle ossessioni è quella della poesia quindi ho l'abitudine a cercare un analogo poetico ma nel senso anche tecnico a volte perché sono un appassionato lettore quindi credo che sia una disciplina che ti aiuta a fare economia a dare giusto peso alle parole perché Montale diceva che la poesia è disperatamente semantica cioè il significato è importante ma lo diceva uno come Montale non so se mi spiego non lo diceva uno qualsiasi però tu mi hai chiesto qualcosa questi altri maestri però sulla poesia è altro maestri 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 sì c'è qualcosa dunque adesso ho nominato Gabrielze e Ideo Canze ma per esempio per esempio un fallimento voglio citare un fallimento perché forse ne ho già detti altri per qualcuno di voi ma un fallimento è stato certamente l'andare alla ricerca vi ricordate quando abbiamo isolato il centro storico e l'abbiamo affidato a Mimmo Cuticchio e abbiamo portato qui tre o quattro spettacoli di teatro di pupi perché ci sembrava fertile quell'azione e poi perché lì c'era quella miniera butta e buttava e butta ancora in realtà e io pensavo o credevo che diventasse contagiosa questa azione che in qualche modo sprigionasse una forza ma non è stato così non è stato così però abbiamo investito molto nel tentativo di strappare o di mungere Mimmo Cuticchio che me lo ricordo ancora quando sotto eravamo solo in via Fabri Silvio Silvio lo sai qual è il sogno di ogni grande attore di diventare pupo e dico hai ragione Mimmo deve trovare qualcuno che lo muova nel bene e nel male la frase è terribile no? perché ha a che fare con la responsabilità politica del tuo essere attore io uso spesso la parola atto io sono soprattutto un attore quindi permettetemi di usare quella al posto di artista o teatrante insomma però il rapporto con Mimmo dal punto di vista non del rapporto con lui non della sua maestria ma noi avevamo puntato molto sul fatto che questa maestria diventasse contagiosa cosa che invece non è accaduta visto che hai introdotto il tema delle geografie che è sempre centrale soprattutto nei primi festival ci sono proprio delle sezioni dedicate a culture geografie teatrali differenti italiane europee voglio farti una domanda sulle geografie più concrete di Sant'Arcangelo e il circondario che anche questa hai appena toccato cioè si potrebbe scrivere abbiamo detto tante volte un libro sulla storia del festival attraverso le relazioni che ciascuna direzione artistica ciascuna edizione ha istituito con i luoghi e della città e del territorio dei comuni limitrofi e quindi volevo chiederti come la tua direzione già questa citazione sul progetto dell'epica nelle contrade del centro storico della città vecchia qualcosa ci dice come la tua direzione artistica si era portata alla scelta dei luoghi e più in generale alla città e ai suoi abitanti allora questa cosa che ho citato di Cuticchio non mi ricordo più esattamente per me dal mio punto di vista è stata la accettazione o dichiarazione che il mondo delle contrade quel mondo il mondo del 77 non c'è più ma è morto le contrade stavano per essere da anni spopolate dagli abitanti di allora c'è questo fatto di Mimmo e quindi siamo andati in cerca dei capannoni siamo andati in cerca dei nuovi spazi dove passava la vita dove passava mi ricordo ancora c'erano Giuliano Scabia che tentava di fare lo spettacolo e fra noi spettatori e Giuliano Scabia passa una golf di uno che doveva parcheggiare lì dietro è cambiato il mondo lui voleva parcheggiare e non c'erano cazzi capito lui voleva parcheggiare cioè il rispetto per quello che noi stavamo facendo no ci mancherebbe quindi ormai era un insieme di proprietà private la comunità delle contrade era finita mi ricordo benissimo questo fatto perché molte riflessioni abbiamo fatto a partire da questo e siamo andati io penso che il festival poi ha continuato ad andare a caccia no di spazi e continua a farlo no ogni tanto vedo fiorire qualcosa di nuovo anche adesso no che io non mi aspettavo cosa posso dirti di questo che dopo mi sembra inutile che adesso qui stiamo a fare la discussione perché va da sé si è fatta da sola questa discussione no sul il teatro dopo l'ultimo festival di Sant'Arcangelo che si chiamò così era un titolo che voleva sancire proprio il fatto che quel tipo di teatralità diffusa di godereccia per le piazze era ora di bypassarla e di creare ambiti di concentrazione e di intensità diverse per permettere agli artisti di fare un'esperienza no che ci veniva chiesta avevamo bisogno di un altro strumento ok ma senza io almeno senza mettere totalmente in cantiere il fatto che il teatro non è una cosa che per forza deve accadere in una cantina lontana e nascosta e qui spezzo una lancia a favore di Leo e anche diciamo così di come io ho inteso fare il lavoro poi bisogna parlare appunto della musica e del circo inferno che sono due aspetti che si collegano molto a questo no voglio dire io posso io posso accettare di collaborare con un artista che fa un esperimento difficile ma questa difficoltà non deve essere sottratta al percorso cioè l'accesso deve essere chiaro la maniglia della porta devo poterla vedere in modo che chiunque questo è il principio democratico di Leo chiunque se si deve attrezzare si attrezzerà possa aprire quella porta ovviamente passato quindi l'ultimo festival di Sant'Arcana non si pone più il problema ma si pone comunque il problema di rispondere alla singolarità di questo festival mi spiego meglio voi sapete che per anni è stato ospite qui Goffredo Foffi che il festival ha ospitato per anni lo straniero e posso citare perché non è stata una volta sola diverse litigate chiamiamole così con Goffredo al bar centrale o a quell'altro che diceva basta con questi circenses è ora di fare l'avventino delle arti basta col circo basta cioè praticamente con la musica con la birra lui voleva in qualche modo spingersi verso una direzione che qui c'è un capitale ancora intatto credo di promiscuità fra diverse domande che sfatte dalla diversità o la varietà dei pubblici che concorrono a Sant'Arcangelo che è una ricchezza c'è poco da fare è una ricchezza che forse è cambiata con il tempo io non sono uno spettatore assiduo degli ultimi festival per dire com'è oggi io posso dire com'era allora a quel tavolo mangiavano in tanti bisognava che tutti andassero via con l'idea che avevano trovato qualcosa di buono per loro e qualche volta si sbagliava anche però questo era molto importante perché questa è la singolarità positiva di questo luogo cioè io non voglio citare festival che conosco bene dove insomma sono i 30-40 spettatori che per carità hanno una loro funzione anche loro per carità ok ma questo è diverso questo è diverso quindi mi sono incagliato mi sono incagliato era sui luoghi quindi sui luoghi e chiaramente i luoghi sono benvenuti e cercati qui ragazzi aiutatemi voi quanti ne abbiamo non lo so non ho una risposta omogenea per tutti questi io credo che il festival abbia continuato a cercare luoghi no luoghi che che sono spesso luoghi in transito da una destinazione a un'altra visto che non ci possono essere luoghi deputati cerchiamo luoghi che temporaneamente possiamo abitare quindi è un festival nomade che abbiamo cercato di 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 poi è arrivato a un certo punto il lavatoio ma che cos'è il lavatoio 105 posti c'è una struttura preziosissima ma nel momento in cui c'è è fantastica ma per il festival è pochissima cosa in qualche modo no da una parte dall'altra sto pensando per esempio a uno spazio complesso come Villa Torlonia Villa Torlonia che ci ha creato anche tanti problemi perché ovviamente è un contenitore gigantesco no una volta abbiamo portato persino un certo Erick La Cascade voi vi ricordate Erick La Cascade che venne a provare qui prima di andare ad Avignone e ha costruito tutto quel buglierone di roba no da Erick La Cascade a Massimiliano Civica quattro omini in piedi nel nulla che dicono cose in modo piatto no eh sì Gran Guignol quindi in qualche modo forse visto laggiù Gran Guignol ha espresso il massimo delle sue potenzialità perché era un luogo che se si poteva rappresentare il vuoto quello era il posto giusto chiaramente cos'è il lavoro e il rischio è sempre quello di trovare il posto giusto per il progetto giusto noi sono tutti come si dice in inglese side specific sono tutti side specific da decenni i progetti di Sant'Arcangelo a volte il matrimonio funziona a volte meno e a volte bisogna tagliare qualcosa accorciare la figura no sul letto perché non ci sta e questa è la è la natura del festival no tramontata l'idea che si fa un mega teatro due con un palcoscenico esterno ed interno vero Natalino a firma di Gaudenzi mi pare no come Rimini avrebbe detto come lo fate voi e noi non lo facciamo ci saremmo messi in concorrenza con un contribuente che avrebbe avuto da ridire magari no e comunque il festival non è avere a disposizione un teatro ma la libertà di agire sul territorio e per agire sul territorio devi avere il rapporto con la comunità che è la comunità amministrativa ma anche con la comunità cittadina giusto perché se no non stai chiuso in tre stanze di un castello a fare un festival scusa la citazione non ne ha bisogno Castiglioncello di avere un rapporto con la comunità lo fanno lì lo fanno lì benissimo ma qui è necessario è necessario perché no se no come arrivi a intercettare gli spazi per esempio non so se c'è qualcosa di più intelligente da dire rispetto a questo ma credo che il fatto di andare a mendicare spazi sia il segno che la comunità in qualche modo vuole continuare a dialogare con il festival se in qualche modo si riesce a risolvere il problema su questo tema qui dei luoghi ma in realtà in particolare del rapporto con la comunità e le diverse domande che il festival va a intercettare le diverse comunità che entrano in contatto ogni anno tuttora e nella sua storia con il festival di Sant'Arcangelo c'è la questione dell'apertura perché le edizioni dirette da Silvio Castiglioni hanno anche altre però le sue in particolare questa particolarità di avere una programmazione di teatro anche di danza ma anche moltissime aperture sia di formato rispetto allo spettacolo tradizionale comunemente inteso sia al teatro stesso nel senso che c'erano se guardate i cataloghi dell'edizione di Rattera Silvio la metà dei fogli è dedicata alla presentazione di eventi altri che sono tantissimi incontri incontri con gli artisti si sono sempre fatti però credo almeno finché per quanto ho studiato io è la prima volta che in maniera sistematica in Parallel 99 vengono proprio organizzati sera per sera dopo lo spettacolo con tutti gli artisti in programma ma anche incontri d'altra natura su altre tematiche in particolare nell'enorme programmazione extra teatrale tra proiezioni cinematografiche e di video anche teatro alla rassegna di poesia di letture poetiche se lui ci ha parlato ci ha accennato del suo legame con la parola poetica anche questa è una sezione che dura tutti gli anni che torna tutti gli anni volevo chiederti di parlare del circo perché il circo arriva già dalla prima edizione come spettacolo evento in programma e poi pian piano si consolida fino a raggiungere quella forma che è abbastanza famosa nell'ambito teatrale che tu hai citato che è il circo inferno cabare con una programmazione musicale non soltanto sua indipendente con un suo luogo di riferimento molto connotato se lo vuoi raccontare tu è tutta un'altra natura che intercetta la programmazione del festival ma anche si muove su altri fronti non voglio dire tutto io volevo chiederti come mai hai aperto così tanti altri campi oltre quelli del teatro all'interno dei tuoi festival e in particolare di approfondire se vuoi quello del circo o se preferisci altre questioni hai parlato della poesia hai parlato anche della musica c'è Massimo Eusebio che curava la programmazione musicale ma guarda io devo riconoscere che innanzitutto l'abitudine a fare incontri culturali al pomeriggio e la parte importante che ha svolto la poesia in questi incontri con Martini con Giacomo Martini l'ho ereditata da Leo l'abbiamo fatta prima con Leo e questa cosa a me mi sembrava una cosa bella io ero ho sempre coltivato molto questa possibilità anche qui no cioè noi abbiamo fatto venire Antonio Negri qua io volevo vedere da vicino Antonio Negri l'ho toccato anche qui cosa vuol dire ti sei cavato una voglia sì l'abbiamo pagata carissima perché poi invece di farlo qui siamo stati costretti a farlo a Rimini perché Foffi il solito Foffi ha detto se lo fate qui io vado via ma voglio dire c'era la curiosità sempre quel tarlo la curiosità quindi avere la possibilità di incontrare persone che avessero uno sguardo sul presente su fatti emotivi del presente non solo teatrali e questa cosa l'abbiamo ereditata io l'ho ereditata da Leo l'abbiamo il giardino degli incontri in qualche modo era una cosa che ci prendeva molto tempo poi c'era la piazza adesso qui il discorso sarebbe che il problema del circo è della piazza cioè del luogo qui molta acqua è passata sotto i ponti in qualche modo bisognava bisognerebbe qui si aprirebbe un capitolo che comporterebbe molte ore anche di confronti incrociati posso dire che il circo si è rivelato alla fine ma non era l'unico posto vero Massimo gli spettacoli li facevamo in piazza e al circo lo sferi lo sferito umano anche lo sferisterio perché ovviamente Massimo che si è occupato adesso diciamo due cose sulla musica di tenere viva la fiammella della musica e della musica popolare all'inizio soprattutto grazie io non ne ho visto uno di quei concerti perché ovviamente avevamo molto da fare però e quindi mi sento anche un po' deprivato di questa parte chiaramente però il fatto che accadesse qualcosa di importante in piazza o in modo visibile e gratuito ci sembrava un piccolo gesto di riconoscenza nei confronti della città in assenza di spettacoli o di modi di fare il teatro che ogni tanto si sono anche tentati anche negli anni successivi mi ricordo un tiezzi qua sotto e non era buono quel tiezzi qua sotto capite cosa voglio dire perché perché il teatro perché devi poi trovare gli artisti che interpretano questa cosa e non è sempre disponibile questa forma dipende dai tempi il circo l'autore del circo è laggiù io lo chiamo in causa direttamente Roberto perché in qualche modo vorrei dire che è una sua creatura che io ho sostenuto si trattava il primo anno che siamo andati in perdita di coprire quella perdita e di dire che non era vero insomma perché bisognava darsi il tempo per arrivare a regime posso solo dire che il circo nei suoi anni grandi ha fatto dire all'insospettabile Olivier Bohen ma come 2500 persone e neanche un poliziotto in giro è stata secondo me una grande invenzione è una piazza che ci siamo ci siamo costruiti una piazza e ce la siamo portata dove poteva esprimersi quella piazza non poteva più essere qui nella piazza l'abbiamo portata là l'idea del circo è sempre quella della cioè io credo che uno dei rischi del teatro e di tutte le arti e di tutte le azioni che comportano sacrificio e lavoro duro uno dei grandi rischi è l'autoreferenzialità anche qui vorrei citare Grotosso che è talmente duro questo lavoro che la tentazione di premiarti giusto perché lo fai è grande ma non è bella cosa premiarti perché lo fai perché il circo c'entra con la con la rischio di autoreferenzialità perché il teatro fatto per i pochi interessati a quel teatro che non è una cosa negativa in quanto tale perché ci sono appunto degli esperimenti a cui bisogna arrivare preparati con tanto di rispetto per l'ignoranza che citavo prima se sei pronto ad affrontare quella cosa lo puoi fare bene però non deve diventare questa un'abitudine a chiudersi in se stessi quindi l'idea che uno per caso capita in un posto dove non sarebbe mai andato parlo di teatro no perché magari è intercettato dall'idea notturna che lì la birra costa poco la musica non è male si può fare baldoria e uno spinello fuori fino all'alba perché no no cioè io perché no l'attrattiva del festival chiaramente si può diventare schizofrenici su questa strada bisogna continuamente farsi la domanda di come si mettono in comunicazione i mondi e poi non bisogna scambiare così come il direttore non deve deve sapersi al servizio così come noi non ci possiamo immaginare come eh impresari di 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 che se finiamo per fare quello perdiamo di vista il nostro il nostro goal il nostro obiettivo insomma però mi sembrava una buona risposta alla crisi della piazza il circo e a come si sta in piazza chiaramente quelli che stanno seduti al bar centrale al circo magari non ci andavano però ne avevano notizia e soprattutto ne avevano notizie vicini che che ci hanno creato qualche problema io chiederei se c'è qualcuno che ha delle domande o anche semplicemente delle riflessioni da condividere rispetto a tutte le cose che abbiamo detto che Silvio ha detto finora abbiamo un microfono no ma sta registrando glielo porto io Silvio tra gli spazi indimenticabile spazi inventati è il capo di grano col teatro delle ariette questo fa parte per di più con Pasolini parlato una roba anche con qualche salsiccia finare Fabio ti ricordi però quel posto è rimasto anche se a tre chilometri di me fantastico sai che io lo rimuovo dentro di me perché l'ho visto una volta insieme con Cordelli che mi ha tirato scemo mi ha tirato scemo ma perché sono venuto qui in mezzo alle patate continuavo a dire le patate perché vabbè sì è stato anche perché è uno spazio quello per esempio che siamo stati costretti a coltivare per lungo tempo no siamo andati a sceglierlo uno spazio agricolo che dovevo avere con una certa va bene questa è una citazione imperdibile su questo tema della piazza della musica del circo io credo che uno dei meriti vostri cioè il connubio teatro e Massimo Eusebio è un po' tornare scusate la citazione dotta all'idea di Nice musica e teatro cioè era un tipo di musica sì popolare di tradizioni del mondo ma che ti faceva entrare nella logica di un teatro che può nascere anche in mezzo alla gente in mezzo a una piazza e quelle serate indimenticabili che facevi programmati dal lunedì al giovedì quindi quando non c'era il casino del weekend di teatro sotto l'arco Italia-Brasile 3 a 2 iniziato con 150 persone finito con mille persone perché le ho contate con Davide Enia o Enia non so a Scagno Celestini ancora poco conosciuto cioè sono dei momenti che rimangono e fanno capire che il teatro ha un senso sociale ma non nel senso politico ha un senso di aggregazione ha un modo di raccontare di raccontarsi e rinascere in mezzo alla gente questo un pochino a me adesso manca perché e credo che ci sia ancora uno spazio per la gente di ascoltare storie belle ben raccontate ma anche dirompenti in piazza e quindi questo ricordo di quegli anni a me è rimasto fortemente anche una sorta di nostalgia oggi sarebbe tutto da reinventare però secondo me c'è uno spazio perché musica e teatro nella piazza abbiano un senso e poi per il casino va benissimo anche il circo se si trova uno spazio adeguato una domanda personalissima il tuo rapporto con Leo personale e il tuo rapporto con Rezzo Gabriase perché so che è stato difficile ma straordinario e invece una domanda più grande che riguarda tutto il festival ma tutti i festival quanta parte del tuo lavoro di direttore l'hai dedicata alla creazione di lavori per il festival nel festival del festival quando tu pensavi all'edizione futura quanto tempo dedicavi all'idea di creare dentro il festival piuttosto che portare dei lavori che sì chiaramente potevano essere riadattati rimodulati però erano già pronti quello che mi interessa è capire un festival come questo è un festival di creazione di scambio di confronto che in gran parte si fa qui non si esporta non si prende e si importa da un'altra parte e quindi mi interessava capire quanto del tuo tempo creativo l'hai dedicato a questo aspetto e se ci sono state delle edizioni dove è stato più facile raggiungere questo obiettivo e altre invece più difficili allora è difficile rispondere alla domanda perché io faccio un po' di confusione con gli anni mi vengono in mente dei lampi tipo c'è stato un anno che noi abbiamo prodotto lo spettacolo della valdoca che abbiamo fatto a Villa Torlonia quello con Danio Manfredini lo stesso anno Barberio Corsetti era a Venezia e Martone a Roma e noi avevamo cominciato noi con i piccoli mezzi di cui disponiamo a fare questo dialogo con Cesare Ronconi per fare lo spettacolo lì l'arrivo di queste due nomine ci ha gettato nel panico perché ovviamente lui si sentiva tentato di andare di quella no allora lo cito poi alla fine si è calmato tutto anche perché se Venezia aveva molti più soldi però era molto più scomoda per lui è molto più costosa andare a Venezia con i canali l'acqua e i gradini piuttosto che venire a Villa Torlonia a due passi da casa però credo che tu hai detto una parola molto giusta festival di creazione si dovrebbe si dovrebbe comprare poco sul mercato delle cose già fatte e si dovrebbe invece cercare di usare tutto il tempo per coltivare ma qui dipende spesso dalle risorse poi sono poche quelle che tu puoi fare le azioni di questo tipo almeno ai miei tempi quando era meno ricca questa dote di collaborazioni con l'Europa che adesso è stata avviata era molto insomma erano poche le cose che potevamo fare come produzione come coproduzione o soprattutto come coltivazione in loco capito erano progetti erano limitati si contavano sulle punte delle dita no non so se ti ho risposto chiaramente ci sarebbe piaciuto alla fine però succede che tu devi far fronte a un festival che presenta richieste di biglietti che presenta e tu devi offrire anche l'apparato festival e per offrire l'apparato festival devi tamponare cioè devi presidiare diversi lati non è il festival solo per gli operatori o per gli interessati al teatro questo è il punto capito e allora non puoi pretendere di essere originale in tutti in tutti i campi che tu dissodi ecco perché mi mi fai pensare magari ci pensarò meglio a quello che mi chiedi perché io mi sentivo come uno non preparato all'esame stasera perché mi sono dimenticato tutto ragazzi mi sono dimenticato un sacco di roba ma veramente gli anni si ammucchiano uno sopra l'altro come proprio sono sogliole capito questi anni e poi la rimozione perché poi la rimozione allora prima rispondo all'altra cosa con Gabriaze Gabriaze lo sapete come l'ho incontrato ho visto lo spettacolo a Kiev ho tentato di contattarlo perché ero il direttore del festival ma non mi volevano ricevere per caso a quella che mi impediva di entrare ho detto che io vengo da Sant'Arcangelo il paese di Tonino Guerra lui ha sentito Tonino Guerra da là e mi ha fatto entrare e così è nata questa follia che poi portare gli operatori erano 5 ma in compagnia erano in 15 16 17 vero Roby allora non era così facile non lo è forse neanche adesso ma portare questa truppa ma si è stato poi abilisi nel suo teatro no no eh eh comunque è stato un rapporto molto bello anche perché poi sapete che c'era bisogno del doppiaggio e quindi ha chiesto a me di farlo sono andato a Digione a farlo perché tu vedevi lo spettacolo in russo ma ti era detto sottovoce diciamo doppiato in italiano ce l'ho ancora quella quella cassetta ehm allora la rimozione alla fin dei conti però il festival non mi ha fatto male perché le cose più interessanti a mio giudizio ma non solo a mio giudizio che ho fatto in teatro le ho fatte dopo quindi si vede che non ho passato male il mio tempo e che qualcosa ho imparato per rendere più decisiva la rimozione o comunque il fare il voltare pagina ho scelto di fare la cosa più difficile che io potessi fare ho scelto di lavorare sul viaggio in Armenia di Osip Mandelstan che chi lo conosce come poeta sa che è un poeta in qualche modo difficile diciamo difficile è quello che è autore di una famosa poesia su Stalin che però lui non aveva mai scritto l'aveva composta nella mente e se la passavano da mente a mente mi ero appassionato di questo personaggio perché la moglie imparava a mente le sue poesie perché se le sequestrano tutte almeno qui ci sono la copia c'è e quindi dopo il festival parlai con Nanni di questa mia passione e Nanni che come me aveva finito il suo mandato qui mi disse ma perché non lavoriamo su viaggio in Armenia ora viaggio in Armenia non è una poesia ma è una prosa poetica che ha tutte le caratteristiche tranne quelle del teatro cioè è una roba è una parete liscia dove non c'è un appiglio ma grazie a questa sfida infinita difficilissima io ho creato un gruppo di lavoro che allora era composto appunto dallo stesso Nanni e da Giovanni Guerrieri con cui continuo a collaborare è nata allora la nostra collaborazione stretta quindi tutte le cose interessanti diciamo per me almeno che ho fatto dopo casa da altri domani ti farò bruciare il grande inquisitore e poi e poi il Manzoni e poi e poi Pedretti e Tonino le ho fatte dopo le ho fatte dopo quindi la rimozione o il fatto di mettere da parte il festival mi è servito per usare tutta quell'energia e fortunatamente non ero neanche di quelli a cui che ne so come succedeva 30-40 anni fa il partito comunque gli garantiva un posto da qualche parte vero Natalino allora si usava così nell'epoca diciamo così storica vi voglio leggere un pezzo perché questo librino di Josef Broski Broski perché ho citato Mandelstam e Broski è stato un premio Nobel no lui si dice allievo di Mandelstam che poi emigra in America e questo librino che si chiama Dall'esilio contiene anche il suo discorso di accettazione del premio Nobel in questo librino tra l'altro si dice che l'estetica viene prima dell'etica e lo argomenta bene lui che veniva da uno stato molto etico lo argomenta molto bene vi leggo qualche riga perché credo che in senso antropologico l'essere umano è una creatura estetica prima che etica l'arte perciò è in particolare la letteratura per lui chiaramente ma voi ci potete mettere quello che volete anche il teatro non è un sottoprodotto dell'evoluzione della nostra specie bensì proprio il contrario se ciò che ci distingue dagli altri rappresentanti del regno animale è la parola o la danza allora la letteratura o il teatro è in particolare la poesia essendo questa la forma più alta dell'espressione letteraria è per dire le cose fino in fondo la meta della nostra specie e poi vi leggo un'altra in un certo senso questa cosa era stata molto importante per me perché io me lo vado a rileggere ogni tanto ci sono tutti i suoi articoli io come poeta lo amo sì ma non particolarmente ma come saggista e come uomo di cultura che taglia con il coltello che ha conosciuto sia la cultura russo sovietica allora che quella occidentale perché lui poi scrive anche in inglese amico poi di molti dei poeti della nostra occidentali Oden fra tutti inglese in un certo senso dice Broski tutti noi lavoriamo per un dizionario perché la letteratura è un dizionario un compendio di significati per questo o quel destino umano per questa o quella esperienza è un dizionario della lingua nella quale la vita parla all'uomo la sua funzione è quella di salvare il prossimo uomo un nuovo venuto è quella di salvare il prossimo uomo un nuovo venuto dal pericolo di cadere in una vecchia trappola o di aiutarlo a capire se mai dovesse cadere comunque in quella trappola che è stato colpito da una tautologia così sarà meno allarmato e sarà in qualche modo più libero sapere le regole del gioco sapere il senso di ciò che la vita riserva di quello che ti sta accadendo ha un effetto liberatorio questo è un manifesto politico questo è il mio manifesto politico grazie grazie io conosco bene tutto il tuo periodo perché quando iniziò iniziaste voi io ero in consiglio comunale poi successivamente nel direttivo del festival sei certamente una memoria importantissima in questa vicenda del teatro in Sant'Arcangelo ne hai percorso almeno la metà 25 anni più o meno da protagonista in qualche modo allora mi piacerebbe avere da te un'idea circa la la via di eventualmente difesa di questo festival in questo paese perché nonostante questo cinquantennio che è un'enormità di tempo sono due generazioni accavallate l'una sull'altra mi pare di capire che in paese non è così certo che abbia vinto definitivamente questo bisogno questa necessità questa opportunità di continuare a farlo vivere come dire senza difficoltà come lo difenderesti tu eventualmente da un attacco che sta sempre dietro l'angolo come lo difenderesti per vincere qualche resistenza grazie angelo trezzi angelo tra l'altro questo tema è interessante perché una cosa che non abbiamo detto è che nelle direzioni di silvio progressivamente il tema della politica culturale e del ruolo del festival in un certo tipo di società che là si stava facendo è qua oggi ed è andata insomma in un certo modo diventa sempre più centrale nei tuoi testi nei testi di presentazione che scrivi per il festival del sant'arcangelo come comincia questo pezzo che ho letto in un certo senso tutti noi lavoriamo per un dizionario qual è la minaccia oggi angelo che ci mancano le parole per nominare la complessità la semplificazione permanente no cioè questo adesso tu hai giocato sulla parola paese questo è un paese no come altri paesi grandi paesi il paese paese che è insofferente rispetto alla complessità alle difficoltà quindi ma la tua domanda sai ci fa tornare un po' all'inizio ho citato Recalcati all'inizio sul tema dell'eredità l'eredità va conquistata io credo che noi non dobbiamo armarci dietro l'età dei 50 anni per dire che siamo indiscutibili dobbiamo metterci continuamente in discussione e non dare per scontato che ormai abbiamo diritto alla vita in quanto tale no abbiamo il posto fisso al sole se il festival continua ad avere la forza di mettersi in discussione e di mettersi in discussione anche nei rapporti con la città probabilmente si rigenera o rigenera la sua vocazione voglio dire non possiamo vantare l'anzianità come titolo di merito non è il momento di farlo in questo paese questo grande paese dopo non è che arrivo a consigliarvi l'ultimo libro di Moresco che si chiama Il Grido perché potrebbe prendervi la depressione ma un'occhiatina a quel libro la darei mi permetto di consigliarlo è il libro che sto leggendo adesso anche perché come dire no sono talmente tante le le questioni che solleva rispetto all'incapacità di sviluppare un pensiero politico adesso diciamolo no capace di far presa sulla pancia della gente io ho la fortuna di non dirigere questo festival adesso scherzo però nel senso che tu mi fai una domanda cioè sono contento ma nel senso che ho altro da fare non perché non mi piacerebbe sì non mi piacerebbe non saprei non saprei da che parte cominciare voglio dire però anche in quell'altro da fare mi pongo il problema che se 20 spettatori sono arrivati qui stasera io non devo drogarli perché se li mando via drogati ho fatto la cazzata capito cosa vuol dire drogato sapete cosa vuol dire drogato tu mi affidi il tuo organo poetico io approfitto del fatto che so parlare in pubblico che so tenere la tua attenzione e ti passo una dose di coca nel mio caso il lavoro è di non mettermi al posto dell'opera l'esercizio è di non mettermi al posto dell'opera di essere a servizio dell'opera lo so che anche questo non basta e non ti garantisce io credo che un compito è quello di tenere aperta la freccia del tempo io la indicherei così cioè di studiarle tutte qui sono accadute cose importanti per esempio che non sono accadute recentemente non nei miei tempi sono state coinvolte persone del paese in progetti anche importanti significativi a livello sono successe cose grosse quindi questo è un patrimonio prezioso che però non va mai messo sul tavolo per una pura rendita finanziaria capite cosa voglio dire noi non siamo attrezzati per far fruttare finanziariamente i nostri guadagni dobbiamo sempre reinvestire tutto fino all'ultima cifra fino all'ultima lira o all'ultimo euro e se qui esiste è esistita fino ad oggi questa cioè ma vi rendete conto adesso ne parlavamo prima di venire qui no siete andati a prendervi una direttrice di 30 anni che viene dalla Bielorussia ma nessuno in Italia ha fatto una roba di sto genere scusatemi guardata dalla distanza di Gabice non tanto di lontano questa è una cosa che ha del esemplare è miracoloso per certi versi come esempio di come si dovrebbe fare di come dovrebbe fare questo paese è chiaro che siccome è un esempio pericoloso potrebbero anche prenderlo come motivo no per giustiziarti ma anche questo esperimento questo festival si è permesso è giovane è femmina e non è italiana madonna capito cioè è ovvio che questo nei tavoli che contano va fatto pesare è evidente no ma cosa ti aspetti che lei faccia io non posso certo chiedere a lei che faccia il teatro che avrei fatto io al posto suo ma sarei stupido se pensassi questo no capite cosa voglio dire chiuso l'argomento della direzione attuale io però non so dare una risposta se non generica no come si fa e quali sono le azioni oggi necessarie perché anch'io insegno a dei ventenni in università no la domanda che faccio è che cosa hanno visto ma siccome le risposte sono strane per esempio fino a qualche tempo fa domandavo conoscete Carmelo bene conoscete Leo de Berardinis allora uno o due che conoscevano a Carmelo c'erano perché aveva un ufficio stampa migliore di quello di Leo chiaramente chi conosceva Leo non c'è più nessuno che abbia conosciuto Leo ma il problema c'è comunque perché se tu oggi prendi un gruppo di ragazzi gli fai vedere l'antigone del living in video ma ti guardano ma sei scemo ti dicono ma è ovvio perché se tu la vedi in video l'antigone del living che io ho visto dal vivo è certo che era teatro partecipato perché quando questi qua si battevano e venivano lì e tu eri nel 68 immerso fino vorrevo dire un'espressione brutale dentro quella roba lì non potevi non sentire quello che passava perché il teatro è sempre contemporaneo e quindi se noi diamo un'occhiata al video di allora non possiamo essere contemporanei agli spettatori di allora quindi c'è uno se tu non sei preparato a quello che vedi non capisci devi fare la tara ok quindi il teatro è sempre contemporaneo io non posso io non posso mai di fronte agli spettatori faccio un esempio molto chiaro ci sono colleghi che fanno un'altra scelta rassicurante per loro quindi tu vai a vedere quel collega non vai a vedere quello che quel collega la finestra che quel collega apre mi segui? ecco questa per me è una strada che per me è sbagliata per me ma per me io non la faccio cerco di non farla e quindi cerco di rimettere tutto in gioco ogni volta cerco magari non ce la faccio qualcuno mi dirà anche tu sei un furbacchio può darsi però non posso anche il festival non può calare la sua non può calare i suoi 50 anni come una carta di credito deve rimettere in discussione la sua legittimità ogni volta e deve riconquistarla questo è un esperimento politico ragazzi grosso perché questo paese è scollato è scollato il paese paese e quindi ma non ho mica risposto ma in qualche modo si condivido molto l'approccio al problema però il problema esiste esiste sempre mi fa piacere sentire che sta più dalla parte del proponente che dalla parte dell'utente della responsabilità ti tocca ripetere condivido no condivido la tua riflessione su questo punto e mi fa piacere che la responsabilità penda più dalla parte di colui che propone per essere sintetici no che dalla parte di colui che ode dell'utente quindi la prospettiva è buona il modo anche di porsi è buono io condivido questo modo qui quindi può darsi che se riuscirà ad essere così possa avere un futuro ancora importante perché comunque il rischio esiste sempre è esistito tante volte è esistito tante volte se non ci sono altri interventi io vi saluterei abbiamo fatto un po' tardi rispetto al previsto però gli argomenti erano tantissimi beh ma con me ve la siete cavate per otto anni otto se cinquanta con questo incontro e c'è ancora tante altre cose sarebbero da approfondire però insomma avremo anche altri incontri in futuro in cui ci confronteremo con questi temi soprattutto l'ultimo che è emerso senza dubbio fondamentale allora ringrazierei Silvio per la sua grazie a voi e tutti voi per aver partecipato stasera grazie grazie ciao grazie